E vale un posto nella zona Europa League, questo Verona-Napoli, un solo punto di differenza in classifica con i campani assieme al Milan che ieri ha vinto a Lecce a 39, l'Ellas a 38, due squadre che dopo lo stop per il coronavirus sono ripartite davvero molto bene. Nella Napoli, pareggio in semifinale con l'Inter, vittoria e rigore contro la Juve, ha conquistato la Coppa Italia, il Verona invece nel recupero della venticinquesima ha battuto molto più nettamente di quanto dica il 2-1 finale, il Cagliari dando prova di avere già una buona condizione fisica. Due occasioni create dalla Napoli in questi pochi secondi, siamo entrati nel ventesimo minuto, prima c'è stato un tiro di Zielinski dal limite, si è disteso sulla sinistra, Silvestri è riuscito ad allontanare, davvero uno scambio nello stretto molto bello, quello del Napoli al limite è un po' decentrato sulla sinistra e poi una punizione calciata da Politano che aveva trovato nell'area piccola Insigne, la girata d'Insigne, il salvataggio sulla linea di Amrabat ma c'era una posizione di partenza di fuorigioco dello stesso Insigne, il gol non sarebbe stato convalidato ma davvero una bella azione, un bello schema questo del Napoli che aveva liberato nei pressi della linea di porta il giocatore Insigne e poi il salvataggio di testa sulla linea di Amrabat. Torniamo a Verona. 21 minuti e mezzo, pericoloso il Verona, la palla finisce alta sulla traversa, Verre era praticamente sulla linea di porta ma era anche in fuorigioco e non sarebbe stato convalidato il gol di Verre ma da segnalare che per la prima volta il Napoli si è scoperto e il Verona è andato via 3 contro 3, scambio nello stretto tra Di Carmine che ha messo il pallone nei pressi della linea di porta per Verre che ha colpito di testa sopra la traversa avrebbe sbagliato un gol facilissimo ma la mia impressione è che sia stato segnalato un fuorigioco anche in questo caso e quindi l'azione non era in ogni caso valida. Verona. E a Verona una bella conclusione di Faraoni di testa e ancora un'occasione per la squadra di Ivan Iuric con il traversone da sinistra di Veloso che aveva visto Faraoni largo oltre il vertice dell'area piccola con saltato in assoluta libertà ma non è riuscito a inquadrare la porta il tiro tra l'altro, la conclusione tra l'altro era anche abbastanza debole. Torniamo a Verona. A Verona siamo al trentasettesimo, ci sarà un calcio d'angolo per il Napoli, calcio d'angolo da sinistra c'è Politano assieme a Insigne sul pallone, era andato via bene in signe, è stato anticipato all'ultimo istante messo il pallone in corner, ancora pronto Insigne oppure Politano, sono entrambi sul pallone, se ne va Insigne Politano con il sinistro, palla verso il centro dell'area, il colpo di testa, la palla in rete, ha segnato Milik Napoli in vantaggio al trentottesimo minuto, calciato benissimo l'angolo da Politano bello lo stacco in corsa di Milik che il pallone si è filato nell'angolina, Napoli che al trentottesimo minuto si porta in vantaggio con la rete di Milik, Milik che è arrivato così in doppia cifra, dieci gol in questo campionato, il Napoli al trentottesimo minuto è andato in vantaggio con il colpo di testa di Milik su azione d'angolo, angolo ben calciato da Politano, trentanovesimo, Verona zero, Napoli uno, Lina Ferrara torniamo a Verona, quarantaquattresimo, l'angolo ancora di Veloso direttamente sul portiere, Ospina blocca in presa alta, da dire che Ospina è stato autore di un bell'intervento poco fa, proprio su una conclusione da lontano dello stesso Veloso dai 22 ai 23 metri, una gran botta indirizzata sotto alla traversa, Ospina è riuscito ad alzare in angolo, da lì due corner consecutivi da destra sempre battuti da Veloso, sul primo è stato molto bravo Di Lorenzo a mettere di nuovo in angolo il secondo invece, preda del portiere del Napoli, Ospina, adesso è il Napoli che controlla il pallone sulla destra con Di Lorenzo, il tocco di Milik largo per Politano, Politano ha di fronte, un paio di finte, palla verso il secondo palo, arriva Faraoni, che con il stop sbagliato dà una grandissima occasione prima a Milik, poi arriva anche Alan e però la conclusione di Alan a botta quasi sicura, trova sulla linea di porta Silvestri che riesce a mettere il pallone in calcio d'angolo, ma qui davvero per una ingenuità di Faraoni, il Verona ha rischiato di prendere il secondo gola, Verona, conclusione di Veloso e blocca in due tempi Ospina, il Verona si è disteso bene sulla sinistra con Ambravat che ha visto l'inserimento di Veloso al limite, la conclusione con il destro che ha picchiato terra a pochi metri dalla porta di Ospina, Ospina in due tempi ma in sicurezza è riuscito a bloccare il tiro che era anche abbastanza centrale, punizione per Insigne, siamo praticamente sulla linea di metà campo, Insigne si guarda intorno, poi perde ancora qualche secondo, il pallone Usai, Usai scambia fronte di attacco per Di Lorenzo che mette giù il pallone, lancio lungo in profondità per Alla nel tocco per Politano, Politano al centro in progressione, in velocità alla conclusione, ci arriva Silvestri che allontana ma la palla è ancora per Milik, Milik esce dall'area, ancora indietro per Di Lorenzo che sbaglia davvero di pochissimo il controllo, la palla si alza e non riesce a concludere, dà ottima posizione, poteva sicuramente fare meglio il terzino destro del Napoli. Verona. È il Verona che ha appena assiorato il gol del pareggio con Lasovic che ha messo un pallone in mezzo molto pericoloso, è andato in anticipo su Di Carmine Ospina e con il pugno è riuscito ad allontanare ma una buona azione questa dell'Ellas, per la prima volta si è visto Lasovic, si è visto subito che cosa può fare il giocatore esterno di sinistra, serbo dell'Ellas. Verona. Quindicesimo ancora Ramani, apre a sinistra dove il traversone poi per Di Carmine che appoggia il pallone per Zaccagni, Zaccagni entra in area, salta un uomo poi ancora con il pallone tra i piedi, mette bene, al centro arriva Faraoni, la palla in rete, il pareggio del Verona al sedicesimo minuto della ripresa di Faraoni. Bella questa azione di Zaccagni che ha resistito a un paio di contrasti degli avversari che stanno protestando, il gol sembra convalidato, il pallone è stato poi recapitato sulla testa di Faraoni che da un metro dalla linea di porta ha depositato in rete il gol del pareggio dell'Ellas al sedicesimo minuto, continuano a protestare i giocatori del Napoli, l'arbitro mi sembra che il gol in ogni caso sia convalidato anche se probabilmente è in corso un silent check con la sala VAR dove lo ricordiamo ci sono il signor Mariani e il signor Paganessi, niente, va al VAR, il gol non è valido, adesso cercheremo di capire che cosa è successo perché l'azione di Zaccagni, una serie di contrasti, forse potrebbe aver toccato la palla con un braccio, ancora quegli attimi sospesi prima della decisione del signor Pasqua che è fuori dalla nostra vista perché è andato dove c'è il televisore per cercare di decifrare questa azione, tutti attorno al quarto uomo stanno cercando di capire in anticipo quello che deciderà il signor Pasqua e quindi siamo qui anche noi che tentiamo di capire qual è la situazione, sta tornando in campo in questo momento, vediamo da che parte si dirige, dice che il VAR ha visto un fallo, ci sarà una punizione quindi gol non convalidato, il risultato rimane con il Napoli in vantaggio per 1-0, c'è stato qualcosa di irregolare dalla posizione, sembra proprio di irregolare che l'irregolarità l'abbia commessa Zaccagni perché la posizione è proprio sul limite dell'area, probabilmente nel contrasto, nella dribbling si è portato avanti il pallone con un braccio, non aveva visto l'arbitro, il signor Pasqua che è stato poi aiutato dalla sala VAR e quindi è andato a rivedere l'azione e il gol di Faraoni non viene convalidato, quindi il risultato non cambia, siamo al diciottesimo, Verona 0-1, Napoli 1, linea Ferrara. Amrabat salta un uomo ma è pressato ancora da Zielinski, però apre a destra dove c'è Faraoni, Faraoni mette a terra, poi dà il pallone a Di Carmine al limite dell'area, Di Carmine cerca l'inserimento di Verre ma non lo trova, Verre ancora il pallone e la conclusione deviata da Di Lorenzo mette in grandissima difficoltà Ospina che però ci arriva e va a togliere il pallone dall'angolino basso alla sua destra. ventiquattresimo di gioco, Verona 0-1, linea Ferrara. Lobotca salta un uomo, palla lunga per Insigne che ha abbastanza campo libero davanti a sé, costretto alla rincorsa Faraoni, si sovrappone il giocatore Goulin, poi Insigne si porta il pallone sul destro, fa partire il suo classico tiro a giro che però finisce alto sulla traversa e quindi fuori ha fallito un'azione in contropiede il Napoli. Poteva far meglio Insigne perché aveva lo spazio per mirare l'angolino alto alla sinistra del portiere Silvestre. Verona. E' Verona che sta incrementando la sua pressione offensiva poco fa, una conclusione di Faraoni che è finita di poco alta sulla traversa. Torniamo a Verona. Quarantaquattresimo, quarantaquattro minuti giocati, Verona 0-1, ma è insignato vicino alla gol del raddoppio, un tiro improvviso in corsa con Silvestri, costretto ad andare a togliere il pallone da sotto l'incrocio dei pali e mettere in corner ancora il Napoli quindi con un angolo da destra, sono quattro soli i giocatori del Napoli che in questo momento all'interno dell'area di rigore del Verona con Goulin pronto a battere, palla con il sinistro verso il secondo palo e la palla che finisce in rete, in rete il raddoppio del Napoli. Il Napoli è sul doppio vantaggio, il gol del 2-0 Lozano. Probabilmente Lozano, il gol del Napoli con una palla arcuata, molto arcuata verso il secondo palo, poi è arrivato Lozano che l'ha messa in rete, sono sei minuti di recupero e con il Napoli in vantaggio a questo punto per 2-0 il gol di Lozano ma a gran merito anche di Goulin che ha battuto un angolo perfetto, alto, teso con il pallone che ha scavalcato il portiere Silvestri che ha trovato sulla linea di porta praticamente Lozano che di testa ha messo in rete. Verona. E a Verona siamo in pieno recupero, siamo al terzo minuto di recupero, dei sei di recupero e Lozano poco fa è riuscito a sbagliare un gol praticamente già fatto, è arrivato da solo davanti a Silvestri, ha toccato in anticipo e ha messo sul fondo incredibile l'errore di quello che è l'autore del gol del 2-0 per il Napoli. Verona. Grazie a Daniele Fortuna, qua siamo al cinquantunesimo minuto, il risultato è Verona 0, Napoli 2, c'è un angolo per il Verona, ci sta andando Di Marco sulla fascia a destra, mancano 30 secondi alla fine di questa partita, le reti le ricordo al trentottesimo del primo tempo di Milic, al quarantacinquesimo della ripresa di Lozano, pronto Di Marco con l'interno del piede sinistro, palla verso il secondo palla, ancora una volta Di Lorenzo riesce ad allontanare parte Mertens, palla lunga, palla lunga per il contropiede di Lobotka, c'è 2 contro 2 in questa fase, si accentra la palla in area per Insigne che prova il tiro in diagonale, ci arriva Silvestri che riesce a parare, ancora un buon contropiede del Napoli a pochi secondi dalla fine, siamo, eccolo qui, arriva il triplice fischio dell'arbitro, è finita la partita a Verona, il Napoli ha vinto 2 a 0 contro Lella, se ricordo ancora una volta le reti, al trentottesimo del primo tempo Milica, al quarantacinquesimo della ripresa Lozano, è tutto dal Bentegodi, la linea ora al GR1.